Allora Adolfo vedo che ci sono un sacco di tifosi della credenza questa volta No, non sono tifosi della credenza Sono i contestatori quelli Mi sembra di vedere i tifosi No, sono i contestatori che vogliono ancora l'Union che lo riesce a camare E' partita abbastanza piacevole anche se sia il benessere sia noi abbiamo schierati pochi titolari La partita è ferma sull'1-1 però noi giochiamo in 10 perché è stato esposo sul portiere e si deciderà se rimane l'1-1 ai calci di rigore Ai calci di rigore? Si, direttamente dopo il novantesimo Ho capito Comunque mi sembra che siano una bella partitina Ma insomma Parla, parla Discretamente perché è un impegno che disturba entrambe le squadre perché il Venezia è pronto a vincere i campionati e noi puntiamo a salvarci Pertanto a nessuno di tu interessa la strada Questa è la realtà delle cose E' il nuovo regatore cosa ci dici del... Il nuovo regatore Il regatore di Venezia No, è il nostro nuovo regatore E' il nostro sta facendo i miracoli con i fichi secchi Lo sta fanno Molto pezzo Va bene, dopo Grazie carissimo Ciao, non scherzo Buona definizione Grazie a tutti Grazie a tutti